Questo programma è offerto da Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Ruggito Neroverde, la trasmissione che vi porta nel mondo Bitonto, la trasmissione che vi accompagnerà verso la partita di sabato contro il Gallipoli. Si riparte dunque da una sconfitta, quella partita domenica in quella di Matera, Bitonto illuso dal gol di Teresco, poi la rimonta della formazione lucana fino al 4-1 finale. Insomma, tanti i temi di riflessione e soprattutto capiremo in che condizioni il Bitonto arriva alla partita di sabato ore 15 allo stadio Antonucci di Bitetto contro il Gallipoli. E lo faremo con due graditissimi ospiti, parto da Nicolo Ungredda, ciao Nicolo. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. E in collegamento con noi il direttore del Davidonto, Mario Sicolo. Ciao Mario. Ciao Vincenzo, un abbraccio al nostro caro Leoncello, ospite in studio e a tutti gli amici che ci seguono da ogni angolo dell'Orbe Terraqueo, multimediale non solo. Bene, allora partiamo subito con la partita persa dal Bitonto domenica in quella di Matera, andiamo a vedere le azioni salienti e poi ne parliamo in studio. Non basta l'iniziale vantaggio al Bitonto e circa 60 minuti davvero buoni per portare a casa dei punti utili ad una classifica sempre più asfittica e pericolante. Il Matera cale il poker nella ripresa e soprattutto trova i gol del suo ariete infantino che spacca la gara grazie alla sua doppietta. Sempre più complicata invece la situazione in casa Bitonto che resta anche in dieci nel corso del match ed ora ha necessità di punti salvezza almeno tra le muramiche. Lo seto si affida al trio Palazzo, Tedesco e Marchitelli con la conferma di 5 elementi rispetto alla gara di Coppa Italia disputata mercoledì ad Andrea. Nel Matera invece il tecnico Panarelli affida ad Infantino e Russo la costruzione della manovra offensiva assieme a Ferrara alla ricerca di profondità e giocate. Prime schermaglie con Maltese dalla distanza e poi con Palazzo appena entrato in area di rigore. In entrambi i casi si destreggiano bene i portieri. Infantino la colpisce di testa alta sul cross profondo di Maltese ma al quarto d'ora compie davvero il miracolo della Pina sullo Bianizze smarcato dal tocco di testa di Tedesco e tutto solo a pochi passi dalla porta di casa. Palla bloccata dall'estremo difensore classe 2003. Ancora impreciso il tiro di Ferrara dal limite su assist di Infantino. Gara a ritmi blandi e nel finale di prima frazione arriva però il pasticcio difensivo di Lucas e della Pina su cui è bravo ad approfittarne Tedesco il cui tiro a porta vuota porta in vantaggio gli ospiti. Dopo la Coppa torna a segnare anche in campionato l'attaccante Bitontino per un buon primo tempo dei suoi. Dagli spogliatoi torna in campo un Bitonto sbarazzino che prova subito a raddoppiare con l'incursione di testa di Ungredda al lato di Poco e poi con il tiro di Tedesco deviato da della Pina in corner. Ma la pressione ospite si esaurisce dopo circa un quarto d'ora e arriva la reazione del Matera che confezione ha subito due buone opportunità. La prima con il tiro del neo entrato Pellegrini sull'esterno della rete e poi con il colpo di testa di Sepe che attraversa tutta l'area di rigore prima di essere liberato dalla difesa del Bitonto. All'alba del ventesimo minuto di gioco arriva l'episodio che cambia definitivamente l'inerzia del match. Gianfreda già ammonito, cintura infantino in area di rigore. Per il direttore di gare calcio di rigore d'ammunizione. Bitonto in dieci nonostante le vehementi proteste dal dischetto infantino spiazza Tarogli e riporta in parità il match. Meno di cinque minuti e il Matera passa subito in vantaggio. Difesa del Bitonto in affanno su una rimessa laterale profonda in aria. Palla per Mokulu che di testa serve infantino alle sue spalle. Stasi ha girato e Tarogli battuto con un preciso destro all'angolino basso per la sua doppietta personale. Proteste Bitonto a metà frazione per il contatto in aria tra Ferrara e Scardigno. Tutto regolare per il direttore di gara dall'altro lato però a cinque dal termine. E ingenuo invece Tangorre a trattenere Mokulu in area di rigore. Nuovo penalty assegnato al Matera e questa volta lo stesso Mokulu spiazza Tarogli per il Tris. Matera in controllo con Mollica che spreca da buona posizione. E lo stesso fa Mokulu dopo una lunga azione di ripartenza condotta da Ferrara. Bravo in questa occasione Tarogli. In pieno recupero poi arriva anche il poker con la sponda aerea di Mokulu per l'incursione di Sepe che tutto solo batte ancora Tarogli. Sconfitta pesante per la squadra di Loseto che ora avrà un vero e proprio scontro salvezza questa volta tra le muramiche contro il Gallipoli per il Matera che ora ragiona da grande a ridosso della zona playoff. Sfida esterna contro il Nardò. Prima gara spartiacque della stagione per capire quale annata toccherà agli ambiziosi Lucani. Bene Nicolò parto da te. Che cosa non ha funzionato nella partita di domenica? Abbiamo visto una discreta ora di gioco poi dal pareggio del Matera in poi di fatto è stata una gara dominata dalla formazione lucana. Che cosa non ha funzionato? Abbiamo fatto un gran primo tempo siamo stati ottimi abbiamo fatto abbiamo creato molte azioni è stato un gran primo tempo e abbiamo nel secondo tempo comunque siamo entrati con lo spirito giusto lo stesso. Nel secondo tempo il primo quarto d'ora abbiamo abbiamo continuato a creare una volta con me una volta con Tedesco. Però c'è stato un episodio che ci ha spezzato le gambe ovvero quello del rigore c'è che continuando a rivederlo ho ancora dubbi se ci sia o meno. Quindi proprio è stato questo episodio dubbio che ci ha spezzato le gambe e la partita è andata come non dovevo andare. Sono state due partite differenti quella di Matera ma anche quella di Andrea in Coppa. Ecco dove ritenete quali ritenete che siano gli aspetti che come dire nella partita di Coppa avrebbero dovuto essere poi replicati e non sono stati replicati in terra lucana? Ma a parer mio anche ad Andrea abbiamo comunque abbiamo giocato abbiamo comunque lo stesso fatto un meglio il secondo tempo però abbiamo comunque giocato abbiamo creato azioni anche ad Andrea e ci manca solo più cattiveria più cinicità è questo. Più cazzin ma si direbbero altre latitudini. Mario arrivo da te dove invece ritieni che il Bitonto debba lavorare per diciamo cominciare a risalire la china già sabato contro il Gallipoli. Abbiamo sentito nel servizio e a tal proposito apro una parentesi ho dimenticato di farlo prima ringraziamo WeWork che ci ospita e Danilo Mingirulli alla parte tecnica. Però ecco si parlava nel servizio di classifica che comincia a farsi pericolante dove ritieni che bisogna che si debba lavorare in questa fase già da sabato? Di solito si dice che si debba fare la corsa su chi all'apparenza finora è risultato un po' più debole della formazione neroverde ma in realtà se vediamo bene adesso purtroppo occupiamo il penultimo gradino della graduatoria sapendo che all'ultimo posto c'è la Palmessi che peraltro si è prodotto in un risultato quasi dipendente domenica scorsa. Ebbè c'è sì da preoccuparsi sicuramente bisogna dare continuità oltre che la cattiveria che i giocatori peraltro è un po' come il coraggio secondo il Don Abbondio Manzoniano uno se non ce l'ha non ce lo si può dare e quindi è la stessa cosa che si possa dire anche della cattiveria del cinismo che dovrebbero mostrare sotto rete. In realtà bisognerebbe semplicemente dare continuità alla prestazione perché il Bitonto finora ha dimostrato di essere double fast, bicipite, bifronte nel senso che Dottor Giacchile Misteraido magari un primo tempo splendido come è stato quello di Matera dal 20 settembre Franco Salerno e poi magari un secondo tempo piuttosto rassegnato quasi dinanzi all'episodio certamente negativo di quel penalty fin troppo generoso che è stato concesso dall'arbitro però chiaramente non può crollare una squadra che peraltro si rifà al simbolo del leone alla prima difficoltà. Così come invece ad Andrea era stato bello il secondo tempo, il primo magari era stato molto pavido, nel secondo invece era stato molto più ardito. Io credo che bisogna dare continuità alle prestazioni. È evidente che in questo momento l'obiettivo è superare la colonna di destra per provare quantomeno a riavvicinarsi a quella di sinistra. Ecco, qual è stato il, che cosa vi siete detti in spogliatoio, non tanto subito dopo la partita perché insomma sappiamo che a caldo a volte magari la delusione può avere il sopravvento. Ma ecco poi a mente fredda su che cosa avete riflettuto? Sul gruppo, su creare una catena che non si deve mai spezzare, di essere tutti uniti e di appunto, restando uniti, cioè di mettere in atto la forza del gruppo e quindi uscire da questa situazione tutti insieme. Ognuno mettendo, diciamo, facendo quello che sa fare, senza strafare quello che sa fare, ognuno deve mettere in atto le proprie abilità e uscire insieme a tutto il gruppo da questa situazione oscura. Ecco, noi abbiamo parlato più volte nelle scorse puntate, proprio parlando del gruppo, della corretta convivenza, del corretto mix tra i giovani e i giocatori di esperienza. In tanti sostengono che in generale sia meglio avere più giovani entusiasti, desiderosi di emergere, oppure più giocatori esperti in grado, come dire, di saper trainare il gruppo. Ecco, dal tuo punto di vista, dato che tu fai parte di una di queste due categorie, quanto per voi è importante l'apporto di giocatori più esperti? Un nome che mi viene in mente, Loris Palazzo. E quanto invece ritenete di poter dare il vostro contributo, tanto più in un periodo difficile come questo? Gli over, cioè quindi i grandi, ci danno una mano fondamentale, ci trainano veramente tanto, ci danno un supporto non solo morale, ma anche a livello in allenamento. Ci aiutano ogni errore, loro sono ad aiutarci, senza aggredirci, ma proprio dandoci dei consigli, facendoci migliorare. Mentre per quanto riguarda noi giovani, noi giovani dobbiamo solamente dare il 100%, anzi più del 100% dobbiamo dare, e seguire ciò che gli over, i grandi, ci dicono. Mario, vengo da te per parlare proprio della classifica e dei risultati maturati nell'ultima giornata. C'è stato qualche risultato che ti ha confermato quelle che erano le tue aspettative? Qualche risultato invece che ti ha sorpreso? E soprattutto che cosa ci dice la classifica che abbiamo appena visto? Sicuramente, siccome è un mio pallino da inizio campionato, sottolineo la bella vittoria del Nardò, per esempio, che ha sbancato Altamura. E prima o poi penso che sostanzialmente Nicola Ragno dovesse riprendere in pugno la situazione per la squadra Nerettina, da un lato. Dall'altro poi ci sono stati alcuni pareggi e soprattutto stupisce, penso, all'interno della classifica, il primo posto del passano di T8, che se è vero come è vero che ha consegnato un'altra vittoria, quindi probabilmente rispetto alle tallonatrici, come può essere il Martina di Massimo Pizzulli, però voglio dire, il passano che ha vinto a Bitonto, che ha sbancato il Nicola Rossiello, non è che avesse dimostrato questa grande forza da corazzata che possa stendere in un battibaleno tutto il campionato. Quindi, secondo me, i risultati, i propri risultati di domenica, hanno lasciato aperte parecchie piste, tante squadre che si metteranno dietro la Lepre-Fasano, che sicuramente non è in procinto di attuare una fuga, secondo me. Poi bisogna stare molto attenti giù, nella parte bassa, nei bassi fondi del campionato, dove il Bitonto, secondo me, ha da fare necessariamente sei punti nelle prossime due partite. Perché, secondo me, la sfida contro Gallipoli e Manfredoni, che peraltro sono stati protagonisti di un match fratricide domenica scorsa, sono sfide fondamentali e cruciali per il Bitonto, se davvero si vuole dare la svolta a questa stagione. Allora, mandiamo adesso un altro contributo, ossia alle parole del direttore sportivo del Bitonto, Leonardo Rubini, dopo la sconfitta in quel di Matera. Sentiamo e poi ne riparliamo in studio. Sì, al di là dell'episodio dell'1-1 espulsione rigore, onestamente, dalla tribuna sembra molto generosa, però non mi è piaciuta la reazione, comunque, dopo l'1-1. Una squadra immatura è una squadra che si deve salvare, non può commettere degli errori del genere. Abbiamo preso tre gol su falli laterali. Innanzitutto bisogna chiedere scusa ai ragazzi che sono venuti qui a supportarci e fanno sacrifici per venirci a vedere. Poi bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare, lavorare e cercare di recuperare un po' di indisponibili. Non mi è mai piaciuto piangermi addosso sugli indisponibili, però una squadra come la nostra non può permettersi tutti questi assenti. Senti, una partita, onestamente, molto educata, molto fair play. Delle munizioni non date da una parte o dall'altra, questo rigore, dalla tribuna, ripeto, dalla tribuna, perché non mi va di arrampicarmi agli specchi, mi è sembrato generoso. Logicamente, poi, conseguentemente, al rigore c'è stata la munizione e comunque il rigore dell'1-1. Poi la squadra non ha reagito come deve reagire. Eppure non siamo entrati male perché abbiamo sfiorato pure l'occasione del gol con Manuele Tedesco. Mario, ti ha convinto questa disamina da parte del direttore sportivo del Bitonto, Leonardo Rubini? Ci sono state delle perplessità sul rigore fischiato in favore del Matera, ma anche, se vogliamo, un piccolo mea culpa rispetto alla prestazione fornita in campo, anche per quanto riguarda i tifosi presenti in Terra Lucana. Ma a grandi linee è una disamina che ti trova d'accordo? Sicuramente, come già dicevo io stesso, che ho rivisto le immagini, il primo penalty è stato sicuramente generoso. Atteso il fatto che Saveriano Infantino, che era l'ex di turno, un attaccante che probabilmente abbiamo battezzato noi bitontini, al palcoscenico del calcio importante, il calcio che conta, sapendo che Saveriano sa fare quel movimento, è abituato, praticamente la sua specialità, quello di appoggiarsi al difensore, fare perno poi sull'avversario che lo marca, poi girarsi e freddare il portiere avversario. Quindi, secondo me, il primo rigore è stato generoso. Poi è chiaro che nel momento in cui tu espelli anche Gianfreda, a quel punto diventa difficile per il bitonto, che già sulla carta, per valori, uno contro uno, è inferiore, almeno sulla carta, ripeto, al Matera. È chiaro che poi il tracollo è dietro l'angolo. Fermorestando che comunque continuano a condividere, ma non è solo colpa di Leonardo, probabilmente a caldo era quella l'unica chiave di lettura che si poteva dare, continuano a condividere la lettura delle partite, e l'interpretazione delle partite legate ai singoli episodi. Ripeto, come ho detto prima, fare un ragionamento circa tutto, l'intero, la totalità della prestazione della squadra. Poi per il resto, i tifosi, gli ultra, sono generosi e magnani, mi stanno seguendo il bitonto un po' ovunque. È chiaro che prima o poi vogliano anche delle prestazioni all'altezza, per quanto i ragazzi non sono degli automi. È chiaro che loro e nessuno pensa che giochino a risparmio o vogliano levare il piede dall'acceleratore certe volte, perché è chiaro che ognuno dà il meglio di sé, dà l'anima in campo, e poi non sempre i risultati seguono. Bene, allora andiamo a vedere come si è comportato il Gallipoli nell'ultimo turno di campionato, il servizio. Il 21 maggio scorso si affrontavano in finale per conquistare la Serie D. Cinque mesi dopo si sono ritrovate faccia a faccia per mantenerla. Così come nell'epica sfida del curlo di Fasano, Gallipoli-Manfredonia è nuovamente ad appannaggio dei Sipontini, che all'ottavo tentativo colgono così la prima vittoria in quarta serie. A far saltare il banco l'indelicato incontro salvezza è l'incursione di Babai a metà primo tempo, utile a dare una bella boccata d'ossigeno al Donia e alla panchina di Franco Cinque. Si complica invece la situazione del Gallipoli, alla terza sconfitta consecutiva senza alcun gol segnato è orfano di una vittoria che manca dal match inaugurale. Nei Salentini, Mister Carrozza rinuncia dall'inizio d'Artigas. In attacco tocca Jurato e Tommasone. Nel 3-5-2 la novità è a destra con Migiano. A sinistra confermato quarta con Schalpi, Sanso e Montagnolo a centrocampo. Nel suo 4-3-3, 5 riabbraccia Nice sulla tre quarti. La davanti, scelto Pozzébon come riferimento centrale, supportato da Calembe e Babai. Subito nella mischia, il nuovo arrivato Bambà. Sul terreno di Ugento, spazi ristretti in avvio. Air Knights, da fuori, chiama Passaseo al primo grande intervento del suo pomeriggio. Al 24esimo, il Manfredonia passa. Babai si incune in aria e piazza il diagonale. Passaseo tocca, ma questa volta non basta. Donia in vantaggio. Partita non sfavillante. Dalli spogliatoi non tornano Quarto e Montagnolo. Anzano e Nestola, chiamati a dare più vivacità alle fasce. Attento come non mai, è pulito in uscita il Manfredonia. Passaseo vince ancora il duello con Air Knights, poi è strepitoso col piede nell'evitare la doppietta Babai. L'estremo difensore tiene in partita i suoi. L'altro, senatore Schalpi, prova a suonare la carica, impegnando e non poco il numero 1, Sipontino Rossi. Nel Gallipoli è il momento di Artigas. Con lui anche Ranieri, per le evanescenti Jurato e Tomasone, con il classico passaggio del testimone in attacco. I cambi non danno la scossa utile al Gallipoli. Al contrario, Anzano franacosi su un avversario al 62esimo. Ligore netto, spedito l'estere da Pozzebon. Resta lo 0-1, con l'attaccante che lascerà poi il campo a Cesario, abbastanza infastidito. I nervi non bastano i salentini. Il Manfredonia conserva il minimo vantaggio fino al novantesimo, operando anche il sorpasso in classifica. Un solo gol subito in tre partite. Leggistrata la difesa, il Manfredonia ottiene così una vittoria che può rappresentare il crocevia della stagione. Nel prossimo turno sarà derby per entrambe. Sipontini al Miramare contro il Barletta, Gallipoli in casa del Bitonto in un nuovo acceso scontro salvezza. Bene Mario, un nuovo acceso scontro salvezza, come abbiamo sentito nel servizio. Quali sono i punti di forza del Gallipoli, secondo te? Sicuramente il Gallipoli ha innanzitutto un gruppo che nonostante le posizioni di classifica non sia egregia, però comunque è un gruppo affiatato. E poi ha un paio di elementi, soprattutto al centrocampo, che nonostante il livello della rossa, che nonostante le posizioni di classifica non sia egregia. C'è un problema con Mario Sicolo. In attesa di recuperare il collegamento, passo a te Nico, quali sono gli aspetti del Gallipoli sui quali lavorerete in questi giorni? Io penso che, come stava dicendo Mario, noi non dobbiamo pensare molto ai singoli individui del Gallipoli, ma pensare a noi è pensare semplicemente a vincere, e quindi di conseguenza ottenere tre punti e basta. Non dobbiamo pensare ai singoli individui che ci sono nel Gallipoli, ai loro punti di forza. Mario, ci sei? Abbiamo perso il contatto con Mario Sicolo e a questo punto io pregherei la regia di mandare la grafica di una iniziativa importante del Bitonto, ossia la campagna dei mini abbonamenti. Dal 28 ottobre al 22 dicembre sarà possibile acquistare sei gare al prezzo di 5, ossia 50 euro, quindi una partita sarà fruibile gratuitamente. Sarà possibile sottoscrivere questi mini abbonamenti in prevendita al Via Vai Center, qui a Bitonto, oppure acquistarli sabato prossimo direttamente dal botteghino dello stadio Antonucci. E un'altra iniziativa importante è quella dell'asta celebrativa della Maglia dei Santi Medici, che prego il nostro Nicolo Ungredda di mantenere. Una maglia che sarà acquistabile dal 27 ottobre al 7 dicembre. Un'offerta minima di 50 euro. L'incasso sarà devoluto ad associazioni che si occupano di doni per bambini meno fortunati. Potrete inviare la vostra offerta tramite Whatsapp al negozio Magic Foot al numero 338 149 3147 indicando il valore dell'offerta e il numero della maglia e potrete anche contattare il numero per conoscere l'ultima offerta e per rilanciare rilancio minimo di 10 euro. Insomma, due iniziative importanti per rafforzare sempre più, soprattutto in questo momento di difficoltà, il rapporto con il legame, con la causa nero-verde del Bitonto. E dunque l'appuntamento è per sabato, alle ore 15, con il fischio d'inizio di Bitonto Gallipoli allo stadio Antonucci di Bitetto. Un Bitonto che deve rimettersi in carreggiata cominciando proprio da uno scontro importante. In chiave salvezza, Mario, abbiamo ripristinato il collegamento. Prima di salutarci ti chiedo una istantanea, un breve flash per proiettarci già alla partita di sabato. Ancora con la connessione di Mario Sicolo che a questo punto saluto confidando in una connessione più stabile. Magari vedremo anche di averlo ospite qui in studio giovedì prossimo. Io intanto ringrazio e saluto Nicola Ungredda. E naturalmente l'appuntamento con il Bitonto è per sabato, ore 15, contro il Gallipoli. L'appuntamento con il ruggito nero-verde sempre giovedì su Radio Doppio Zero. Ringraziamo ancora una volta Danilo Mingirulli alla parte tecnica e ringraziamo WeWork che ci ospita. A giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Questo programma è stato offerto da De Caro Caffè Caseificio Gioia Jazz British Coviello Vernici WeWork www.weworkpoint.it